Padel a tutti ragazzi bentornati sul canale oggi Marco andiamo a parlare... che indichi? Sì perché oggi è alta qualità, oggi è eleganza, oggi è eleganza Andiamo a parlare di una cosa non troppo commerciale quindi andiamo a parlare di una racchetta di nicchia qualcuno già l'ha esplorata su Instagram, già stati probabilmente di cosa andremo a parlare ma come dice Marco andiamo a parlare di qualità ed eleganza è una racchetta nordica, non vi svegliamo niente ma vi diciamo di seguirci su tutti i nostri social quindi TikTok, padel, trattino basso, l'over trattino basso Italia, punto basso senza finire i trattini bassi Instagram, uguale, padel, trattino basso l'over trattino basso Italia vieni con me quando poi non mi sentono e poi, e poi, vamos eccoci ragazzi, spoilerata su Instagram oggi parliamo della Robin Soderling, sentite che pronuncia Pro Edition per Simon Basquets barra Roberta Vinci perché ce l'ha anche la nostra Vinci, questa racchetta allora, banda alle ciance, tenendola in mano appena è arrivata la reazione è stata wow veramente bella intanto andiamo a ringraziare il nostro amico Antonio di SGT Sport che ce l'ha inviata per fare la recensione, quindi grazie Antonio veramente, veramente molto bella allora, andiamo subito nel dettaglio partiamo dalla fine il laccetto, il laccetto classico a cappio con il simbolo della Juventus, diciamo poi Marco ci spiegherà questa sottigliezza il manico è un oversize o quantomeno è un po' più lungo del solito sono ben 14 cm saliamo su troviamo questo inserto nella parte del cuore quindi questo segmento centrale che serve a dare una stabilità una rigidezza maggiore al telaio che è totalmente realizzato in carbonio e anche ci dicono a ridurre leggermente le vibrazioni saliamo su troviamo una forma a diamante il bilanciamento è un bilanciamento alto sono ben 27 cm quindi tutto ci fa pensare a una pala molto aggressiva d'attacco la superficie dei piatti realizzata in carbonio 12k quello che mi ha colpito è che vedendo bene la struttura del piatto non sembra le linee non sembrano dritte potrebbe essere veramente un effetto ottico però a me mi ha dato quell'impressione quindi un piatto di media durezza abbinato ad una gomma abbastanza dura quindi piatto medio, gomma abbastanza dura il bilanciamento abbiamo detto alto forma diamantata tutto quanto in carbonio quello che ci ha colpito e loro ce lo chiamano il dynamic hex sarebbe la struttura del telaio parte classico e si va a chiudere qui sotto nella parte del ponte a esagono questo cosa serve per dare una maggiore fluidità nel gioco aereo quindi maggiore maneggevolezza della pala un altro aspetto molto importante sono la disposizione dei fori questo perché? questo perché serve anche ad aumentare leggermente il punto dolce che è decentrato, sì, verso l'alto ma è abbastanza ampio poi vi farò un piccolo 15-30 secondi di paragone tra la babbolat e la hack proprio due cose al volo sono fuori di dimensioni diverse molto più grandi in centro ma quello che ci piace è che sono abbastanza assenti sui lati e concentrati verso il centro quindi più morbido al centro spazio di impatto abbastanza ampio che serve proprio a dare una maggiorezza è una giocabilità migliore alla pala rispetto alla hack, rispetto alla technical viper due pale completamente diverse è una racchetta d'attacco ma rispetto alla babbolat e technical viper il punto dolce è più ampio la gomma ha una respinta migliore quindi assorbe un pochino più l'energia non ha quell'impatto secco, duro anche se la respinta di palla è molto buona quello che mi piacciono molto è l'uscita di palla i piatti, i piatti sono sì lisci non lisci, scusami, lucidi quindi danno una respinta bella e importante però hanno a rilievo qui, sui piatti questa piccola X con dei puntini al centro che servono per dare un ottimo grip alla pala noi abbiamo montato il copritesta il peso che ci viene dichiarato è tra i 360, 365 e i 3,75 in questo caso è 368 grammi con il copritesta montato andiamo a 374, 365 non ricordo benissimo con due overgrip mi è piaciuta? sì, tantissimo la consiglio ai giocatori di sinistra? sì ma allo stesso tempo la consiglio anche a giocatori di destra adesso delle sensazioni in campo ce ne prepara meglio Marco che ci darà anche una chicca sul logo esteticamente ragazzi è bellissima veramente molto molto bella alta qualità, molto molto bella piccola chicca questo stemma che vi ricorda in Italia tanti ci hanno detto addirittura alla Svezia quando abbiamo chiesto informazioni che non le comprano perché ricorda lo stemma della Juventus e pensa a che follia siamo arrivati c'è un tweet andatevelo a cercare su internet del gennaio 2017 quando la Juventus deposita il marchio questo nuovo marchio guardate bene se io la giro così e allungo qui è lo stemma della Juventus e Robin Sotterling ha fatto un tweet dicendo noi l'abbiamo depositato nel 2013 la Juventus nel 2017 pensate bene sono in causa sono in causa dal tribunale per chi ha i diritti su questo logo quindi la Juventus dice che loro non c'entrano niente logicamente perché l'hanno inventato dal nuovo ma sappiate bene che se lo giro la somiglianza è tanta basta allungare un pochino quindi vediamo non penso che facciano cancellare nel marchio a uno nel marchio all'altro ma questa è una piccola chicca che volevamo darvi il manico diceva Daniel nel 14 cm rivoluto da Simon Vasquez in persona Simon Vasquez è un giocatore professionista non stiamo a alti livelli come Lebronne come Galanne come altri Babolat o come Huck che sponsorizzano i giocatori e come Bulpate sponsorizzano i giocatori fenomenali però lui ha voluto questo manico di 14 cm che si trova a metà tra Varlyon e Babolat e Bulpate cioè tra i 12 classici 14,5 cm o 15,5 cm a me Marco che vengo da Varlyon mi sono trovato davvero molto bene mi piace perché non è troppo lungo ma non è corto come gli altri ma leggevolezza tanta punto dolce diceva Daniel un po' più ampio rispetto alle sorelle potenti come Technical Viper o come Huck quindi è una racchetta che ha una morbidezza veramente buona diciamo che è la polivalente per l'intermedio intermedio avanzato la polivalente per eccellenza dell'intermedio intermedio avanzato mi sono trovato molto molto bene io gioco a sinistra qualche volta mi riletto anche a destra e spinge se c'è da spingere ed è molto morbida la pallina viene accolta e respinge non ha quella di spinta forte che può avere un piatto duro in carbonio come la resina come Varlion ma non ha neanche quella di spinta morbida come c'è una gomma morbida che ha Nox quindi si trova in quella fascia intermedia che ci possiamo giocare sia di spinta che di controllo mi piace molto mi sono trovato molto bene esteticamente a me piace il prezzo ragazzi siamo sui 299 250 290 euro quindi si trova anche qualche offerta però secondo me è molto molto bella ed è il top di gamma TRS che è un marchio svedese che si sta facendo mutare quindi sensazione in campo sì appena la prendi sembra che hai una racchetta diamantata ma che ti controlla e che ha una buona spinta quando serve passa che ti controlla Grazie a tutti. Grazie a tutti.